Vorrei invitare con me la mia modella di oggi, Bianca. Un applauso! Allora, oggi vorremmo parlare di lezione di stile. In effetti io faccio questo. Più di sette anni fa nasco come giornalista di moda e praticamente le mie seguacce a un certo punto mi hanno detto perché non ti stai creando il tuo marchio? Perché tu c'hai un stile, lo sto costruendo a scoprire. E comunque così nasce Iris Collection. Quello che io facevo prima da una lezione di stile attraverso i miei articoli, le mie ricerche e anche le mie trasmissioni di moda. Quello che tratterò oggi è a darvi un contributo, chiamamolo così, in queste lezioni di stile. Cosa vuol dire lezioni di stile? All'inizio, quando nasce la moda, il grande designer, poco Chanel, diceva così la moda passa, però lo stile rimane. Questo cosa vuol dire? Che ognuna di noi ci dobbiamo trovare il nostro stile e non dobbiamo necessariamente diventare l'ittima della moda. Quindi io parto dal supposto che non esistono delle donne brutte, solo delle donne che magari non sanno curarsi o mettersi a posto. Quindi ognuna di noi deve cercare di trovarsi il suo stile. Gli abiti che noi indossiamo ci devono stare bene, ci dobbiamo sentire bene in ogni occasione, dobbiamo fare anche attenzione, dipende dai eventi dove andiamo piuttosto l'occasione in cui noi ci troviamo. Coco Chanel, tanti anni fa, ha lasciato delle regole molto importanti per noi, per trovarci proprio il nostro stile. E lei dice così, praticamente, diciamo che è il lusso, non dobbiamo diventare una vittima di questo. E appunto perché è il lusso, è importante di sentirsi bene. Lei per esempio, era molto famosa per mettersi tutti i gioielli che praticamente aveva a casa. Anche se si sembra strano, anche se lei si permetteva di mettersi tutti i diamanti, piuttosto dei gioielli pregiati, lei ha proposto questo trend di iniziare a mettersi i gioielli. Anche se tu ti metti un semplice abito nero, usando più gioielli, più accessori, diciamo che ti trovi un po' il tuo stile, sarai molto chic, no? Farei il colpo. Io vi vorrei leggere un passaggio di come nasce la moda e quando la donna praticamente inizia a svilupparsi, a capire che l'immagine è molto importante per lei. E riprenderò gli anni 50. Bianca oggi ci dà un piccolo tono, questo è uno dei miei abiti, Iris Collection. Diciamo che gli anni 50 sono la mia musa, anche il Melty Moreau è sempre stata, però in chiave moderna. La moda è importante per il nostro aspetto, non dobbiamo stare bene nei abiti che indossiamo, inoltre dobbiamo stare attenti nelle scelte a seconda delle occasioni, della location, gli eventi a cui partecipiamo. La cosa più importante è come indossiamo l'abito, l'atteggiamento, l'eleganza, non ci lasciamo con loro, però dobbiamo fare attenzione. Perché anche se l'abito è molto pregiato, è molto costoso, se noi non sappiamo usarlo, indossarlo bene, con eleganza, e quindi praticamente il nostro fascino spandisce. Dopo l'errore della seconda guerra mondiale, in Europa inizia il processo della ricostruzione. Gli anni 50 rappresentano un periodo di rinascita, soprattutto per la donna. La donna è elegante e raffinata, dopo duri anni in cui ha preso il posto dell'uomo, nelle fabbriche o nelle uffici, riprende il suo posto più in forza che mai. Per una questione di condotta e praticità, la donna ha dovuto mascolinizzare la sua immagine, se stessa praticamente, semplificarla, perdendo almeno per il momento le sue curve, o in parte anche la sua femminilità. La moda degli anni 50 è il sapore dell'eleganza e della semplicità, il tutto mescolato alla gioia. Una gonna a rota, una cintura colorata magari, che mette in evidenza il punto vita, una camicia bianca, perché no, e un ulteriore topo di colore donato da un, che ne so, un foulard elegantemente legato al colo, basterà per rendere molto importante quell'epoca degli anni 50. Per completare l'outfit, ricordiamoci degli occhiali, avete presente quegli occhiali famosi, rotondi, accessori molto importanti per quell'epoca. Non dimentichiamoci, però, gli anni 50 sono molto influenzati della televisione, della cinema made in America. Per la prima volta nella storia, la moda arriva anche dal basso, tanto che i giovani riescono a creare un nuovo stile di vita e conseguentemente uscire dall'anonimato. Non per niente, questo è il decennio del rock'n'roll, dei blue jeans, delle t-shirt e delle beep-up. Vi ricordate la giacca in cuoio? Lei è diventata un irrinunciabile must-have belasmo da uomo, mentre i giovani, o le giovani donne, iniziavano a svelare la propria femminilità attraverso i bikini, quindi i costumi da bagno. Nei nostri giorni, la moda diventa un intreccio di innovazione, ricerca, tecnologia e passato e faccio ritornare indietro nel tempo attraverso i nostri outfit. Se dovesse però immaginare un mondo giuroso, giovanile o semplice allo stesso tempo, io, Iris Collection, lo vorrei vestito da beep-up. Proprio per questo ho scelto quest'appunto per farvelo presente. Questo è il mio stile, un ritorno dei anni 50, un stile vestiti in tempi contemporanei. Sì, sì, lo so, lo so, stavo giusto per finire. Vi volevo solo dare un piccolo contributo delle regole di come portare i vestiti da parte del grande designer Coco Chanel. Un applauso per Bianca per questo. È molto bella, vero? Il grande designer diceva in questo modo, anche se sei nato senza mani, non trattare di non volare, quindi tratta di usare nei tuoi abiti e diceva in questo modo. Quindi quello che io vi volevo trasmettere praticamente oggi è che ognuno di noi si può trovare il suo stile, non ha importanza se è elegante, se è sport, se vuole seguire la moda, cioè ogni donna è bella nel suo essere. Trattate di usare, trattate di usare, tramite i gioielli, gli accessori, quello che sta bene, cioè gli abiti che noi indossiamo, è molto importante l'attitudine che noi ce l'abbiamo, e tutti siamo belle. Vi volevo solo trasmettere questo. Grazie Bianca. Grazie. Grazie.